Si aggrava il bilancio dell'incidente nel porto di Genova, dove ieri sera la porta container Jolly Nero si è schiantata contro la torre Piloti, che in parte è precipitata in mare. Quattro i morti finora accertati, mentre proseguono le ricerche dei sei dispersi. I feriti sono quattro. Intanto la procura di Genova ha aperto un fascicolo contro i gnoti per omicidio colposo. Fermi gli operatori del porto in segno di lutto. In sciopero fino alle 13 i lavoratori della compagnia unica. La convenzione è tutto tempo perso. Meglio seguire le procedure dell'articolo 138 della Costituzione attraverso il Parlamento. Così Berlusconi in una intervista a TV smentendo di aver mai mirato a presiedere l'organismo per le riforme. Saltata ieri la nomina del senatore PDL Nitto Palma al vertice della Commissione Giustizia. Si rivolta oggi alle 15. Vasta operazione antimafia dei carabinieri del comando provinciale di Palermo. Una ventina gli arresti per associazione mafiosa, estorsione, rapine e traffico internazionale di droga. Disarticolato il mandamento di bagheria. In manette anche il sindaco di Alimena nel palermitano, Giuseppe Scrivano, accusato di voto di scambio. Arresti e sequestri ordinati dalla DIA di Salerno nei confronti di politici locali, imprenditori e dipendenti di amministrazioni. Accusati di turbativa d'asta aggravata dalla finalità mafiosa, corruzione e abuso d'ufficio. Ai domiciliari il sindaco di Battipaglia, Giovanni Santomauro, per appalti ottenuti da ditte legate ai casalesi. Forte sciame sismico nella notte in Umbria. Due scosse in sequenza di magnitudo 3.6 e 3.3, poi altre più lievi, hanno interessato la parte nord di Perugia, in particolare città di Castello dove le scuole oggi resteranno chiuse. Spavento tra la popolazione. Nessun danno segnalato finora. Grave incidente a Ecatepec, a nord di città del Messico. 23 morti, tra cui 10 bambini e adolescenti, e 26 feriti nello schianto di un'autocisterna carica di gas liquido contro alcune case. Le fiamme si sono estese per 500 metri dal punto dell'impatto. Arrestato l'autista del mezzo pesante. Nell'anticipo del 36esimo turno di Serie A, la Roma cade in casa contro il Chievo, che raggiunge la salvezza matematica. Oggi la Juventus scudettata è ospite della Tanta. Napoli e Milan di Bologna e Pescara. Nell'anticipo del 36esimo turno di Serie A.